Sì, purtroppo non si sta mai tranquillo in questo settore, dal primo giorno all'ultimo giorno dell'anno ci sono sempre problemi, qui purtroppo un imprevisto guasto di un pistone, diciamo della pressa che fa le balle del materiale che vengono dati ai consorsi obbligatori, si è guastato, comunque è stata già avvisata l'azienda che controlla l'impianto, spero che si risolva più presto e ovviamente do la notizia che l'SRR la settimana scorsa, il nuovo CDA, ha dato indicazione per chiudere finalmente le procedure per attivare il nuovo impianto di pace che ovviamente non è quello che risolve il problema della colta differenziata a Messina, il problema della colta differenziata a Messina è la partecipazione ovviamente dei cittadini e anche poi il completamento da parte di Messina Ambiente del piano del porta a porta nel primo e nel sesto quartiere. L'impianto servirà a chiudere in bellezza questo circuito virtuoso.